Attenzione, di recente sono usciti dei numeri che fanno presupporre che quest'anno e nel corso dei prossimi anni possa verificarsi un vero e proprio boom dei possessori di Bitcoin. Ne parliamo in questo articolo del Cryptonomist di cui vi metto il link in descrizione. Tutto nasce da un tweet di Michael Saylor, cioè il CEO e fondatore di MicroStrategy, loro hanno investito tantissimo in Bitcoin, che condivide questo studio riguardante Coinbase. Coinbase è il più grande exchange di criptovalute americano e la scorsa settimana si è quotato in borsa. Ebbene, tutto nasce proprio dalla quotazione in borsa di Coinbase. Infatti, ha causato questa quotazione un incredibile aumento del numero dei download, cioè di coloro che si sono scaricati l'app di Coinbase. Pensate che nei soli sette giorni successivi alla quotazione in borsa, l'app di Coinbase è stata scaricata più di 2 milioni di volte. Tenete presente che Coinbase è un exchange che ha circa 60 milioni di utenti. Quindi, se in una settimana è passato da 60 milioni a 62 milioni, ecco che l'incremento è stato non solo molto veloce ma anche decisamente significativo. Io ho usato queste cifre per fare una proiezione e da questa mia proiezione emerge che entro fine anno Coinbase potrebbe superare i 100 milioni di utenti. Cioè, passare in un anno da 60 milioni a 100 milioni, che sono quasi il doppio. Ma c'è di più. Michael Saylor non si è limitato a fare la proiezione degli utenti di Coinbase, ma ha fatto una proiezione che riguarda tutti i possessori di criptovalute al mondo. Secondo questa sua proiezione è possibile che attualmente ogni mese ci siano circa in media 10 milioni di nuovi possessori di Bitcoin e entro la fine dell'anno potrebbero essere cresciuti di 250 milioni. Ora tenete ben presente questo dato, 250 milioni di possessori di Bitcoin in più in quest'anno, nel 2021. Ebbene, fino a poco tempo fa si era stimato che al mondo esistessero circa, in totale, 100 milioni di possessori di Bitcoin. Quindi, nel solo 2021, il numero di possessori di Bitcoin potrebbe essere più che triplicato. Cioè, passare da circa 100 milioni a circa 350 milioni. Badate, queste stime sono plausibili, non sono affatto assurde, non sono affatto campate in aria. Sono stime, proiezioni, che si basano oltretutto su dati reali e che quindi vanno considerati credibili. Poi io non so dirvi quanto, cioè ovviamente non saranno esattamente 350 milioni. Però potrebbero essere un po' più o un po' meno, ma difficilmente saranno molti di meno o molti di più. Michael Saylor poi continua con questa proiezione e arriva a dire guardate che entro i prossimi 5 anni Bitcoin potrebbe arrivare, giungere, raggiungere un miliardo di persone. Voglio cercare di farvi ben capire che numero è un miliardo di persone. Al mondo in totale, quindi compresi i bambini, compresi anche gli anziani che non hanno accesso ad internet, ci sono 8 miliardi di persone. Quindi un miliardo è uno su otto. Questa percentuale ovviamente sarà molto più elevata in alcuni paesi, come gli Stati Uniti, ma anche come l'Italia, è molto più ridotta in altri paesi in cui, ad esempio, ci sono molte persone che non hanno accesso a internet o non hanno i soldi per comprarsi Bitcoin, oppure non hanno nemmeno accesso al sistema finanziario. Ma vi dirò di più. Al mondo esistono solo due stati con più di un miliardo di abitanti, che sono la Cina e l'India. Il terzo paese con più abitanti del mondo sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno circa 330 milioni di abitanti, cioè un terzo di un miliardo. Quindi, ve lo dico in altri termini, se Michael Seyro avrà ragione, tra cinque anni il numero di possessori di Bitcoin al mondo sarà tre volte quello degli abitanti degli Stati Uniti d'America. Ripeto il concetto, queste sono proiezioni plausibili. Certo, non è detto che siano corrette, anzi, quasi sicuramente non sono corrette. Però la realtà potrebbe discostarsi poco da queste proiezioni. Cioè, magari tra cinque anni non ci saranno un miliardo di possessori di Bitcoin, ma ce ne saranno un pochino di meno o un pochino di più. Per dirla ancora in un altro modo, nella prossima decade è molto improbabile che i possessori di Bitcoin al mondo siano molto meno di un miliardo. Spero di avervi dato un'idea di che razza di numeri si tratta, della loro importanza, della loro portata. E poi ricordo a tutti che, se volete maggiori informazioni a riguardo, potete sempre scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Un saluto, ciao! Ciao!